Anche quest'anno prosegue la collaborazione, più che positiva, col Calagonone Jazz Festival. Dal 26 al 29 è un villaggio dedicato al jazz, ma dedicato anche ai prodotti di Campagna Amica a chilometro zero per degustare tutto ciò che si produce nel territorio. Cosa state preparando e cosa vi aspettate? Un elemento di condivisione, perché sia la musica che il cibo sono espressioni di convivialità, sono espressioni di aggregazione, sono di incontri. Avremo una serie di produzioni che vanno dalle seate, vanno dagli insaccati, vanno dai formaggi, vanno dai vini della cantina di Dorgali, vanno dagli assaggi, degustazioni, taglieri. Insomma, avremo una vasta gamma di prodotti a chilometro zero. Quest'anno abbiamo l'opportunità di fruire degli immensi spazi del golfo, quindi panorama, ambiente, territorio, cultura. Presidente, siamo arrivati alla 36esima edizione del Cala Gonone Jazz Festival. Anche quest'anno chi verrà a sentire i concerti non potrà che godere un po' del panorama, un po' della musica e anche della collaborazione con la Coldiretti. E questo è ovviamente quello che noi vorremmo e che ci aspettiamo ogni anno, perché organizzare il festival ovviamente comporta un impegno annuale che poi si esaurisce in pochi giorni. Questa iniziativa appunto con la partnership della Coldiretti, trattandosi di due giornate dense, di tanta buona musica, perché ci sono delle star internazionali, con ingresso libero, credo che le persone avranno ovviamente la possibilità di visitare tutti, se non tutti, comunque gran parte degli esercizi commerciali. L'appuntamento con il Cala Gonone Jazz Festival è dal 26 al 29 luglio. Nel fine settimana Coldiretti vi aspetta nel villaggio del jazz sul lungomare Palmasera con le proposte dei prodotti a chilometro zero.